Che il Signore, il nostro Dio, il nostro Signore, ci benedica tutti, ci benedica quest'oggi come sempre, come tutti i giorni della nostra vita. Infatti il Signore ci benedice e tutti i giorni Lui aspetta da noi che ci ricordiamo di Lui, che troviamo del tempo per Lui, per lodarlo, per meditare in Lui, per leggere la Bibbia, per pregare, alcuni minuti durante la nostra giornata, ringraziare il Signore tutti i giorni della nostra vita. E Lui è attento, proprio come Lui è attento a noi, in ogni momento della nostra vita anche noi. Dobbiamo essergli grati. Potete sedervi, fratelli e sorelle, e oggi, oggi parleremo di vari temi. Due, tre temi circa, sempre leggendo la prima lettera ai Corinzi, perché stiamo leggendo di seguito i capitoli. Parleremo di un tema, poi parleremo di un altro tema. Ricordiamoci che erano delle lettere scritte dall'Apostolo Paolo, che inviava alle Chiese di quell'epoca e in quelle lettere l'Apostolo Paolo insegnava la dottrina e dava degli orientamenti secondo quello che la gente gli chiedeva o secondo le problematiche che si verificavano nelle città di quell'epoca. Io credo che c'era un problema molto grande e difficile a causa del giudaismo e a causa anche dei gentili, il popolo dei gentili, perché avevano un problema, quello di riunirsi tutti insieme, congregarsi per lodare il Signore, per seguire il cammino del Signore. E in quel tempo era un po' difficile, in quanto in quell'epoca c'era già una base religiosa che proveniva da migliaia di anni, la legge di Mosè. Poi venne il Signore Gesù Cristo e senza cambiare nulla, anzi al contrario, compiendo tutta la volontà di Dio tramite la legge di Mosè, quindi il Signore Gesù Cristo compì tutta la legge di Mosè e poi portò un nuovo patto attraverso appunto il Signore Gesù Cristo. E lui continua di insegnarci, continua a rivelarci attraverso lo Spirito Santo, la sua dottrina e lo fa fino ad oggi e così sarà fino al giorno in cui il Signore Gesù Cristo ritornerà dalle nuvole. Ci sono persone religiose che dicono di essere cristiane, che dicono di leggere la Bibbia, dicono di essere dei cristiani lettori della Bibbia. Tuttavia loro non credono nei doni spirituali, tanto meno nel dono della profezia. Perciò io invito queste persone a leggere la Bibbia innanzitutto ad essere umili, umili nel loro cuori, di non essere così chiusi, ma umili. E se voi state leggendo la Bibbia, a volte voi la sapete anche a memoria, però dite al Signore di rivelarvi che sia Lui stesso a manifestarsi nei vostri cuori, nella vostra vita, affinché voi vi rendiate conto che sì esistono i doni spirituali, lo Spirito Santo. Lui che è la nostra guida è il governatore della Chiesa, è lo Spirito Santo che orienta, che guida la vita degli esseri umani che vogliono seguire il cammino di Dio. Perciò voi dovete credere che esistono i doni spirituali e tra questi doni spirituali esiste il dono della profezia. Dovete credere che Dio non cambia. Dio non termina mai il suo potere, non esaurisce mai il suo potere. Quando voi dite che Dio era solamente per il passato, per gli antichi e che la moda di oggi non prevede l'esistenza di Dio, non è così, perché Dio non possiamo paragonarlo ad un essere limitato, impotente, che ha esaurito il suo potere e che ha avuto potere solamente nell'epoca di Mosè. Non è così. No, perché il potere di Dio e le sue manifestazioni non finiscono mai. Perché se fosse così allora i salmi, le profezie di cui parlavano di un futuro, di una Chiesa perfetta, di un Messia, di una Chiesa dove il Signore avrebbe dimorato nel cuore di uomini e donne che lo avrebbero cercato, allora tutte quelle promesse, quelle profezie, dove rimangono. Non si possono dimenticare e non possono rimanere degli iscritti. Infatti Dio deve continuare a manifestarsi perché lo ha promesso. A me sembra che sia piuttosto orgoglio o fanatismo da parte di quelle persone che sì leggono la Bibbia, però sono orgogliose, orgogliose. Si dedicano a leggere la Bibbia, ma non per compiacere il Signore. La leggono quasi per fanatismo e rimangono nell'ignoranza. Rimangono con un cuore duro, stolto, ostinato. Leggono sì la Bibbia, ma poi nel cuore hanno questa ostinatezza. Ecco perché Dio non si manifesta nella loro vita. Ecco perché Dio non gli dà più nella loro vita. Ecco perché l'umiltà e la sincerità e la semplicità sono molto importanti. Infatti il Signore Gesù Cristo diceva, beati gli umili di cuore, beati i mansueti, beati i poveri spiriti, beati coloro che credono nel Signore Gesù Cristo perché loro erediteranno la vita eterna. Perciò invito tutti voi a leggere la Bibbia da un punto di vista diverso, da un punto di vista diverso desiderando che il Signore si manifesti. Perché per Dio non c'è nulla di impossibile. Per Lui non è difficile convincere una persona attraverso un sogno, una visione o parlare ad una persona. Però per fare questo il Signore ha bisogno di un cuore sincero, umile, mansueto. Questo è quello che Dio vuole. Bene. Allora, miei cari fratelli e sorelle della Chiesa e io so che in Europa sono connessi oggi insieme a noi. Quindi un saluto per tutti voi, un saluto per i pastori della Chiesa qui negli Stati Uniti che si stanno congregando nei templi. Un saluto a tutti voi. Vi ricordo sempre, vi penso sempre. I miei pensieri sono in voi, dall'Alaska alla Patagonia. Io prego sempre per voi. Anche dove c'è il gelo, al nord. Io so che anche in Patagonia, infatti, c'è un piccolo gruppo che si congrega. Che dire poi dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia, di tutto il resto del mondo, delle isole, dove ci sono dei gruppi di persone che stanno cercando il Signore. Benedetto il suo nome. Quindi un saluto per tutti voi con tanto amore, con tanta sincerità. Prima di iniziare l'insegnamento di oggi, vi chiedo scusa come sempre, perché il tempo scorre, ma cantiamo prima dell'insegnamento un inno che cantiamo sempre con il nostro strumento musicale, il nostro strumento naturale, che è la nostra voce. E cantiamo l'inno numero 232, che si intitola Stelle sulla mia corona. Questo inno è basato sul libro di Apocalisse, quando si dice che Dio ha preparato per noi, nel futuro, delle dimore. Certo, ha preparato per coloro che lo amano con il cuore, ha preparato una corona fatta di stelle. E questo inno si riferisce appunto a questa promessa meravigliosa del Signore. E lo cantiamo con tutto il nostro cuore. Stelle sulla mia corona, inno 232. Atenuto. Pag. Questa è la mia corona, inno 242, come se scegliere. Alla mia corona, inno 242, come se scegliere. Scegliere la mia corona, inno 242, come se scegliere. Scegliere la mia corona. tendrà sus estrellas allí en las almas que yo rescaté cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti mi corona de estrellas tendré de la fuerza de Dios esperando el poder trabajar quiero siempre y salvar a las almas y al fin cual estrellas saber que en mis sienes irán a brillar mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti mi corona de estrellas tendré oh que gozo en los cielos será para mí vivas gemas poner a sus pies y tener en mi frente corona que allí hornen joyas letal brillantes mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté cuando el sol ya decline me encuentre yo en ti mi corona de estrellas tendré la gloria e l'onore siano sempre per il Signore ringraziamo Dio l'onore è sempre per Lui tutte le generazioni dico nei salmi che loderanno il nome del Signore generazioni dopo generazioni loderanno il nome del Signore si la tecnologia la scienza evolvono le mode vanno le mode vengono arrivano tanti cambiamenti tante innovazioni nel mondo ma Dio è sempre lo stesso per Lui il tempo non passa per Lui un giorno equivale a mille anni è la stessa cosa perciò il tempo trascorre per noi esseri umani mentre Dio continua ad essere lo stesso e così come Lui ha trattato le persone all'inizio quando ha creato l'umanità così come fece all'inizio con le Sue manifestazioni lo fa anche oggi infatti i primi uomini di Dio i figli di Dio quei grandi profeti quei grandi patriarchi come Mosè Isacco Giacobbe tutti loro godettero di Dio della sua presenza godettero della presenza del Signore godettero della parola del Signore gli ordini del Signore perché Dio parlava loro dando loro degli ordini ed essi si comportavano secondo l'ordine di Dio e Dio non è mai cambiato Lui continua ad essere lo stesso passano i secoli passano gli anni ma il Signore è sempre lo stesso Lui parla alle persone fa miracoli libera guarisce ascolta le nostre preghiere ascolta le preghiere di coloro che pregano con sincerità e oggi Dio è sempre lo stesso compie miracoli si manifesta ci fa delle promesse meravigliose ci aiuta questo è il nostro Dio e ci sono tante persone che desiderano imparare per esempio perché esiste il male ma noi non facciamo tante domande perché sarà Dio a manifestarsi Lui desidera solamente che noi li crediamo così come Lui si vuole mostrare a noi noi dobbiamo semplicemente credere nel Signore senza fare tante domande senza criticare un giorno sicuramente nell'eternità il Signore ci spiegherà tante cose e tanti misteri nel frattempo che siamo ancora esseri umani cerchiamo Dio cerchiamolo con tutto il nostro cuore con tutta la nostra anima perché con Dio faremo prodigi con Dio faremo prudezze trionfi pace felicità senza Dio la gente non è felice e noi ringraziamo il Signore per averci permesso di conoscere i Suoi cammini e adesso apriamo la prima epistola ai Corinzi capitolo 11 non sono sicura che riusciremo a leggere tutto il capitolo però misureremo il tempo sono tante le cose importanti da dire parlare delle epoche antiche perché nel capitolo 11 dal verso 2 vediamo che l'Apostolo Paolo parlava del contegno della donna nella Chiesa parlava di come vestirsi di come comportarsi all'interno della Chiesa probabilmente spiegò questo perché gli fecero una domanda del tipo come deve essere l'indumento o il vestuario che le donne devono usare quando vanno in Chiesa a congregarsi bisogna tenere in considerazione che in quell'epoca c'erano delle donne che si erano convertite al cristianesimo ma che provvedivano dal giudaismo c'erano poi delle donne che provenivano dal popolo dei gentili e i gentili erano persone che praticavano per esempio tanta idolatria furono idolatri e i gentili praticando l'idolatria o anche altre tipologie di religione avevano dei modi di vivere avevano le proprie leggi le proprie usanze sebbene cercavano di unificarsi nel loro modo di vestirsi di comportarsi nella vita quotidiana però i gentili erano degli idolatri tuttavia anche all'interno degli stessi gentili c'erano delle differenze quando arriva il Vangelo del Signore Gesù Cristo e gli Apostoli cominciano a parlare di Dio il Signore comincia appunto a manifestarsi con prodigi miracoli e le persone si convertono perché vedono nella realtà i miracoli allora anche i giudei i gentili parte di loro si convertono al cristianesimo ma così facendo troviamo delle culture diverse nel loro modo di parlare nel loro modo di comportarsi di alimentarsi ma il Vangelo del Signore Gesù Cristo era venuto ad unificare le persone unificare le persone anche riguardo alle usanze alla cultura alla lingua ecco perché il Vangelo disse mangiate di tutto senza chiedere che cos'è facendo capire che non era più peccato mangiare magari degli animali che anticamente erano considerati degli animali immondi impuri ed erano proibiti tramite il Vangelo si disse andate pure in macelleria e comprate tutta la carne che volete perché non è più peccato ecco questo fece il Vangelo tuttavia quando il Signore proibì di mangiare alcuna tipologia di carne tramite la legge di Mosè era perché alcuni animali immondi furono usati per come simbologia per spiegare cosa fosse il peccato in futuro così il Signore usava un animale immondo per spiegare cos'era un peccato però quando arrivò il Signore Gesù Cristo disse voi credete in me semplicemente credete in me e io vi perdonerò tutte le vostre iniquità e la vostra vita da adesso in poi credendo in me non sarete più impuri perché adesso non è più proibito mangiare alcuni animali immondi potete mangiare di tutto l'importante che crediate in me però per l'Apostolo Paolo era un po' difficile in quell'epoca insegnare perché c'erano tante usanze c'era il popolo dei giudei c'era il popolo dei gentili e l'Apostolo Paolo quindi doveva stare attento e doveva anche essere flessibile altrimenti si sarebbe guadagnato dei nemici piuttosto che degli amici quindi l'Apostolo Paolo disse non è ancora il tempo per predicare tutto quello che il Signore mi sta dando lo farò poco a poco quindi l'Apostolo Paolo fu molto prudente e fu anche permissivo in alcuni momenti in alcuni modi permetteva alle chiese di continuare alcune usanze del passato perché lui diceva con il tempo lo Spirito Santo sicuramente insegnerà le persone con il tempo lo Spirito Santo correggerà orienterà e guiderà ecco perché l'Apostolo Paolo permetteva ancora certe usanze per esempio giudaiche nella chiesa nella congregazione perché sapeva che poi in futuro lo Spirito Santo avrebbe guidato e orientato le persone e in effetti con il tempo lo Spirito Santo ha pulito ha insegnato e ha perfezionato tramite la dottrina fino ad oggi e oggi noi infatti crediamo nel Signore Gesù Cristo lo cerchiamo e siamo qui davanti a Lui cercando di fare sempre la volontà del Signore perché Lui ci insegna a fare la sua volontà e siccome noi abbiamo deposto la nostra fiducia nel Signore Gesù Cristo allora il nostro cuore si è aperto a Lui e Lui di conseguenza ci orienta ci preserva da errori da cose che non si devono fare perché il Signore tramite lo Spirito Santo ci insegna ogni giorno e ringraziamo il Signore per questo e nel verso 2 l'Apostolo Paolo risponde alla domanda che gli stavano facendo e dice or vi lodo fratelli perché vi ricordate di tutte le cose che prevengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi voglio però che sappiate che il campo di ogni uomo è Cristo dice così però non sappiamo proprio proprio di preciso cosa gli chiesero all'Apostolo Paolo tuttavia lui rispose voglio che sappiate che il capo di ogni uomo e di ogni donna è Cristo e il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio oppure si può dire che Dio è il capo di tutto il corpo quindi il corpo di Dio sono i suoi credenti mentre Dio è la testa di quel corpo quattro ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo siccome gli fecero una domanda all'Apostolo Paolo cioè com'è che dobbiamo andare vestiti in chiesa per pregare per profetizzare in quell'epoca certo non so adesso però ho visto tante persone che in tanti posti ancora del mondo gli uomini si coprono la testa con un velo con un turmante e sicuramente in quell'epoca fecero quella domanda all'Apostolo Paolo può l'uomo pregare o profetizzare con il capo coperto oppure si doveva togliere quel velo o quel turbante dalla testa io lo chiamo turbante non so se c'è un altro nome e poi dice nel verso 5 ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto cioè senza il turbante fa vergogna al suo capo perché è la stessa cosa che se fosse rasa in quell'epoca era come se fosse la stessa cosa se una donna non portava il turbante era come se fosse una testa rasa quindi non era una cosa che si vedeva di buon occhio si vedeva sì una cosa che provocava vergogna e una cosa indecorosa oggigiorno la stoltezza delle persone fa sì che queste cose non si vedono né male né bene perché? perché alle persone piace vivere alla moda e se c'è la moda di portare il turbante tutti portano il turbante e viceversa perché alle persone non importa fare la volontà di Dio però qui stiamo parlando di persone che vivevano in quell'epoca che cercavano il Signore proprio come oggi ci sono persone che cercano il Signore e siccome cerchiamo anche noi il Signore vogliamo compiacerlo in tutto e qui vediamo come in quell'epoca la donna per pregare o per profetizzare doveva avere la testa coperta il suo capo coperto però più avanti la lettura dice di porsi anche un velo sul volto e conosco anche oggi alcune religioni tra le quali anche dicono di essere cristiane nelle quali la donna porta ancora un velo sul volto però poi vediamo durante la lettura che il velo viene rimpiazzato e vedremo da che cosa viene rimpiazzato e poi vedremo anche che oggi giorno l'uomo non porta più un turbante bensì porta il capo scoperto in quell'epoca però si usava così e all'Apostolo Paolo gli fecero quella domanda ma l'uomo portava il turbante perché veniva considerato il capo della donna e Cristo è il capo dell'uomo e Dio è il capo del Signore Gesù Cristo quindi cos'è che dice poi il verso numero 6 vediamo cosa dice ancora riguardo al turbante verso 6 ora se la donna non si copre si faccia pure tagliare i capelli quindi dice se la donna non si copre si faccia pure tagliare i capelli ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare si copre allora il capo quindi diceva di non fare né una cosa né l'altra però poi vediamo più avanti cosa succede 7 poiché quanto all'uomo non deve coprirsi il capo perché è l'immagine e la gloria di Dio dice che l'uomo è l'immagine e la gloria di Dio perché Dio quando creò l'uomo e la donna creò sì un uomo e Dio si glorificò tramite quell'uomo il potere di Dio fu glorificato tramite l'uomo e siccome il Signore manifesta il suo potere creando l'uomo dice allora che lo crea a sua immagine e a sua somiglianza ecco perché dice che l'uomo non si deve coprire il capo poiché lui è l'immagine e la gloria di Dio perché appunto è stato creato d'immagine e somiglianza di Dio e Dio non aveva un turbante dice poi ma la donna è la gloria dell'uomo dice il verso ma perché la donna è la gloria dell'uomo ricordiamoci che Dio creò l'uomo e lo chiamò Adamo ma in seguito più avanti Dio disse ti metterò a fianco un aiuto idoneo affinché tu non sia solo e poi dalla stessa costola di Adamo Dio estrae appunto una costola per formare la donna ecco perché dice che la donna è la gloria dell'uomo perché è stata generata dalla costola dell'uomo quindi per così dire si potrebbe appunto affermare che Dio fa un miracolo dall'uomo dal corpo dell'uomo per formare la donna quindi la donna diventa a sua volta la gloria dell'uomo perché proviene come risultato positivo magnifico dall'uomo straordinario è un successo è un fatto un fatto appunto straordinario che Dio fece ecco perché dice che la donna è la gloria dell'uomo perché è uscita dalla costola dell'uomo e questo è raccontato in Genesi capitolo 1 verso 26 che potete leggere verso 8 perché l'uomo non è dalla donna cioè non proviene non è nato dalla donna ma la donna sì è nata dall'uomo questo ripete ripete il verso precedente quindi parlando di Adamo l'uomo è stato creato l'uomo Adamo è stato creato da Dio e dalla costola di Adamo è stata creata la donna verso 9 c'è un chiarimento e dice anche perché l'uomo non fu creato per la donna ma la donna per l'uomo quando Dio disse ti metterò a fianco un aiuto idoneo affinché tu non sia solo Adamo ecco perché Dio creò la donna per non lasciare da solo l'uomo 10 perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità cosa vuol dire che siccome la donna proviene dall'uomo dalla costola dall'uomo dalla costola di Adamo per questo motivo la donna deve avere un segno di autorità sul proprio capo per distinguersi dagli angeli dice a motivo degli angeli non so se alcuni di voi sa quello che è successo perché dice così a motivo degli angeli qualcuno sa la storia perché dice che la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli cosa significa questo verso dice perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità sulla sua testa a motivo degli angeli chi sono gli angeli sono maggiori o superiori sono maggiori degli esseri umani chi sono gli angeli e cos'è l'essere umano rispetto agli angeli passiamo al libro di ebrei capitolo 1 senza perdere i corinzi ebrei capitolo 1 parla Dio degli angeli qui c'è la rivelazione dello spirito santo che parla degli angeli nei quali si dice che il signore Gesù Cristo era superiore agli angeli perché dice che Dio non disse mai ai suoi angeli tu sei mio figlio infatti lo dice in ebrei capitolo 1 verso 5 dice infatti a quale degli angeli disse mai tu sei mio figlio oggi ti ho generato riferendosi alla parte fisica materiale Dio non ha mai detto agli angeli io ti ho generato tu sei mio figlio no Dio non ha detto così agli angeli l'ha detto solo al Signore Gesù Cristo tu sei mio figlio e oggi ti ho generato come essere umano a chi ha detto così poi dice nel verso 7 Dio riferendosi agli angeli dice così degli angeli ma degli angeli dice dei suoi angeli fa dei venti cioè gli angeli sono degli spiriti e dei suoi ministri una fiamma di fuoco questi sono gli angeli Dio dice che gli angeli sono degli spiriti dei ministri e invece nell'otto dice e del figlio cioè del Signore Gesù Cristo invece dice oh Dio il tuo trono è per i secoli dei secoli lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia quindi il figlio il Signore Gesù Cristo è lo scettro lui è il re della giustizia detiene lo scettro mentre gli angeli erano dei ministri degli spiriti quindi il Signore Gesù Cristo con la sua chiesa ed i suoi seguaci che sono i figli di Dio loro sono tutti superiori agli angeli perché gli angeli sono degli spiriti mentre i seguaci del Signore Gesù Cristo compreso il Signore Gesù Cristo sono superiori agli angeli e dice nel verso 14 anzi 13 e a quale degli angeli Dio disse mai mai una volta mai disse agli angeli sedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come scabello dei tuoi piedi a nessuno a nessuno degli angeli parlò così il Signore ma parlò così al Signore Gesù Cristo e ai suoi seguaci e dice nel 14 non sono essi non sono essi cioè gli angeli tutti spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza quindi gli angeli sono degli spiriti servitori al servizio di coloro che erediteranno la salvezza e chi sono coloro che erediteranno la salvezza i figli di Dio i credenti la Chiesa del Signore la Chiesa che il Signore sta formando con il potere del suo Santo Spirito e con i doni spirituali loro saranno beneficiati saranno beneficiati dagli angeli perché gli angeli sono dei servitori del Signore sono dei ministri ministri che servono il Signore e che fanno dei benefici ai figli di Dio sto parlando dei figli di Dio ricordatevi che i figli di Dio non peccano non praticano il peccato e questa la dice la prima epistola di Giovanni perciò gli angeli sono degli spiriti servitori mandati a servire per il bene di coloro che hanno da ereditare la salvezza passiamo di nuovo alla prima epistola ai Corinzi perciò gli uomini e le donne che sono veramente figli di Dio saranno serviti dagli angeli ci saranno degli angeli che li serviranno ecco perché nel verso 10 della prima epistola dei Corinzi dice che la donna avrà sul suo capo un segno di autorità a motivo degli angeli vedete io ho i miei capelli e sicuramente gli angeli vedono i miei capelli e gli angeli mi serviranno dovranno servirmi perché io sono in un certo senso la loro padrona ho autorità nei confronti degli angeli sono superiore agli angeli perché appartengo alla chiesa del Signore Gesù Cristo perché io servo il Signore Gesù Cristo il Signore Gesù Cristo serve Dio e Dio ha fatto delle promesse meravigliose a suo figlio il Signore Gesù Cristo e ai suoi figli e i suoi figli sono i credenti uomini e donne che lo seguono e che non peccano adesso capiamo meglio il verso numero 10 quindi non vi confonderete più quando dice perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli all'uomo non era richiesto questo segno di autorità perché perché l'uomo fu creato da Dio a sua immagine e a sua immagine e a sua somiglianza mentre la donna essendo creata dalla costola dell'uomo doveva avere un'autorità rispetto agli angeli doveva dimostrare la sua autorità la sua superiorità doveva distinguersi dagli angeli così metteva sul capo questo segno di autorità che oggi sono i nostri capelli ma questo non significa che noi dobbiamo venerare gli angeli anche se loro ci servono al contrario vedete tanto l'uomo quanto la donna sono superiori agli angeli hanno autorità sugli angeli perché gli angeli sono dei servitori potremmo dire che gli angeli sono come dei servi in altri posti dicono schiavi oppure operai ecco gli angeli sono queste figure ecco perché anche noi a volte diciamo noi siamo dei servitori di Dio perché noi lo serviamo siamo dei servi o dei servitori o come degli schiavi o degli sì o degli operai per il Signore ecco gli angeli sono così usate la parola che volete per non offendere nessuno servitori schiavi servi noi non ci offendiamo perché noi siamo realisti noi siamo i servitori del Signore e qui dice quindi che gli angeli sono i nostri servitori ma non è che io dico all'angelo io mi incinocchio davanti all'angelo e prego l'angelo prego quell'angelo che si chiama Tizio Caio perché nella Bibbia menziona per esempio un angelo che si chiama Gabriele l'altro è l'arcangelo Gabriele l'altro è il cherubino che stavano servendo infatti noi vediamo in Apocalisse che gli angeli erano dei servitori inviati da Dio in tanti posti del mondo per fare un lavoro delle funzioni che Dio comandava loro di fare ma non è che noi adesso esseri umani onoriamo e vederiamo gli angeli anzi al contrario se Dio invia un angelo per servirmi è l'angelo che si sottomette a me per servirmi e Dio gli dirà guarda tu devi stare attento angelo devi proteggere quella persona non devi permettere che il diavolo faccia del male a quella persona poi noi non sappiamo come il Signore invia gli angeli per servire i Suoi figli ma noi non diciamo al Signore ah Signore invia il tuo angelo no no è come il padre di famiglia un padre di famiglia o un padrone di casa tanti servitori che lo servono lui è servito da tutti ma lui non è che si inginocchia davanti ai Suoi servitori dicendo per favore servimi no perché il tuo dovere è quello di servirmi è quello di sì di ausiliarmi è il tuo dovere quindi anche noi se siamo i figli di Dio non dobbiamo chiedere all'angelo ah aiutami per favore proteggimi per favore vieni angelo e aiutami no no è Dio è Dio che è mio padre lui è mio padrone e dobbiamo dire Signore aiutami proteggimi non permettere che il nemico mi faccia cadere in quella trappola proteggimi dai pericoli dalle tribulazioni e poi il Signore agirà o lui stesso direttamente oppure invierà un angelo e sicuramente questo angelo sarà travestito da un medico da un poliziotto da un ufficiale non lo sappiamo travestito dal proprietario di un negozio di un supermercato quello che Dio vuole fare quello che Dio vuole fare come lui ci vuole aiutare o lui direttamente o tramite un angelo perciò che sia chiaro questo che non dobbiamo né venerare né inginocchiarci né recitare preghiere agli angeli attenzione nel fare questa cosa perché gli angeli sono i nostri servitori e loro hanno questo dovere cioè di servirci mentre il nostro dovere è servire il Signore e onorare Dio e questi esseri questi spiriti gli angeli aiuteranno i figli di Dio ecco perché si dice che l'uomo siccome è stato creato di immagine e somiglianza di Dio non doveva coprirsi il capo mentre la donna sì perché doveva distinguersi dagli angeli e avere autorità sugli angeli e gli angeli avrebbero visto quel segnale quel segno di autorità sul capo della donna e l'avrebbe rispettata ecco Dio fa questo per provare la fede delle persone la fiducia delle persone fino a che punto le persone distorcono il cammino del Signore tante persone lo hanno fatto hanno venerato gli angeli piuttosto che Dio ma attenzione a questo perciò questo verso adesso ci è più chiaro verso 11 dice non di meno né l'uomo è senza la donna né la donna senza l'uomo né il Signore cosa vuol dire questo verso cosa dice nell'uomo è senza la donna né la donna senza l'uomo nel Signore vuol dire che il Signore ama entrambi salva entrambi e li tratta entrambi allo stesso modo l'uomo non è più superiore alla donna né la donna all'uomo in senso spirituale e Dio usa l'uomo e la donna come Lui vuole verso 12 perché come la donna proviene dall'uomo ricordiamoci che proviene dall'uomo perché è stata generata dalla costola dell'uomo così anche l'uomo nasce per mezzo della donna vedete poi successivamente l'uomo nasce tramite la donna dal grembo della donna ecco perché né l'uomo né la donna sono superiori l'uno verso l'altra sono uguali per Dio e ogni cosa è da Dio così dice il verso 13 giudicate fra voi stessi è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta questa è la domanda la natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma quindi sono due domande che fece l'Apostolo Paolo in quel tempo una domanda è riferita alla donna e una domanda è riferita all'uomo che è un disonore per l'uomo portare la chioma mentre è un disonore per la donna rasarsi la testa che non abbia i capelli che non era conveniente mentre per l'uomo non era conveniente portare i capelli lunghi 15 se invece la donna porta la chioma cioè se si lascia crescere i capelli ciò è per lei un onore poiché la chioma le è stata data per copertura invece di usare il velo usa i capelli e ringraziamo il Signore perché adesso non siamo più schiave noi donne di portare questo turbante o questo velo sulla testa perché stare tutto il giorno 24 ore su 24 con un velo in testa non è conveniente e noi ringraziamo il Signore per i capelli e per l'opportunità che ci dà di lasciarci crescere i capelli perché avere il velo sulla testa 24 ore su 24 è una schiavitù ripeto il verso 15 se invece la donna porta la chioma ciò è per lei un onore poiché la chioma le è stata data per copertura 16 ora se qualcuno vuole essere contenzioso con tutto quello che vi ho insegnato stolto ribelle che non vuole accettare l'insegnamento che non vuole sottomettersi allora non lo faccia però noi credenti sì lo facciamo sì ci sottomettiamo alla volontà di Dio a quello che lui dice perché i figli di Dio si sottomettono alla volontà del Signore fanno tutte le cose che il Signore vuole e ringraziamo il Signore per favore donne io ho visto in alcune chiese cristiane dicono di leggere la Bibbia ma sono lì con il velo per favore non lo fate non vi schiavizzate così donne è meglio avere un cuore pulito e puro verso il Signore un cuore pulito nei confronti di Dio piuttosto che portare 24 ore su 24 un velo un velo che vi rende schiavi guardate che facendo così state dando una falsa interpretazione alla dottrina alla Bibbia sono passati tanti anni oggi per esempio oggi gli esseri umani scarseggiano di tante vitamine di tanti alimenti e a causa di questa mancanza si perdono i capelli io ho visto tante persone tanti uomini oggi che sono stressati vivono dei problemi delle difficoltà sono mancanti di vitamine e pertanto si ammalano e gli cadono i capelli come per esempio quando una persona si ammala di cancro perdono tutti i capelli sia uomo che donna e loro dicono no sto peccando nei confronti di Dio ma no non è così non siate esagerati non siate fanatici non dobbiamo essere fanatici sono cose che succedono perché rimanete calvi o calve a causa della malattia però se vi sentite a disagio uscire per strada allora sì portate una parrucca portate una parrucca se vi sentite meglio e poi ci sono oltretutto in alcuni paesi in alcune città nelle quali gli abitanti si rasano ed escono per strada così rasati non è importante l'importante è che noi abbiamo un cuore pulito nei confronti di Dio che compiacciamo il Signore e poi il Signore piano piano ci insegnerà e ci dirà guarda non essere così estremista non devi arrivare agli estremi delle cose perché quando noi siamo estremisti allora diventiamo dei fanatici e cadiamo nel fanatismo dobbiamo essere normali naturali se voi avete i capelli bene se avete perso i capelli non avete colpa perché se avete perso i capelli non siete voi i colpevoli se siete rimasti dei calvi e non avete il denaro per comprarvi una parrucca allora ponetevi un cappello un cappello se vi sentite male non perché la religione ve lo dice ma perché magari voi non vi sentite a vostro agio uscire per strada calvi allora mettete un cappello siate normali dobbiamo essere normali realisti non fanatici non esageriamo non esagerate ecco sto rispondendo a tutte le mail che mi stanno arrivando sicuramente me ne invieranno altre mi diranno ah no mio marito mi ha preso per i capelli così forte che adesso sono calva sto peccando no non è così le persone a volte capiscono le cose in un modo sbagliato pertanto per favore non malinterpretate questo insegnamento la Bibbia non ci dice fino a dove dobbiamo portare i capelli perché mi hanno anche chiesto le donne mi hanno chiesto dobbiamo portare i capelli fino alle spalle alle orecchie alla cintura fino a dove dobbiamo portare i capelli questi sono gusti gusti personali la gioventù per esempio porta i capelli fino alla cintura perché sono giovani hanno tante vitamine hanno tante energie nel corpo tante forze perciò i loro capelli crescono ma con il tempo e con l'avanzare dell'età le cose cambiano e chi vuole avere il cappello lungo non riesce più perché non ha più le vitamine di prima nel corpo e quei pochi capelli che aveva li ha persi ma voi non vi preoccupate di queste cose non perderemo la vita eterna solamente perché non abbiamo più i capelli no no non perderemo la vita eterna ci sono cose più importanti da fare da compiere nei confronti del Signore perciò se avete i capelli rasati o no l'importante è che non picchiate affinché otteniate la vita eterna bene saggezza prima di tutto passiamo adesso a un altro tema che è un altro tema molto delicato e si tratta dei disordini nel celebrare la Santa Cena quindi adesso dimentichiamoci dei capelli e parliamo della cena del Signore dal verso 17 qui parla ancora l'Apostolo Paolo gli scrivono gli scrivono gli fanno delle domande e allora l'Apostolo Paolo spiega come ha spiegato prima dei capelli adesso spiega riguardo al celebrare la Santa Cena e dice nel verso 17 ora in quello che vi ordino io non vi lodo perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio diceva così l'Apostolo Paolo parlando della cena del Signore e sta dicendo che però passiamo adesso a leggere il verso 23 e poi torniamo indietro così capiamo meglio verso 23 dice l'Apostolo Paolo poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane ricordatevi che il Signore Gesù Cristo prima di morire celebrò la Pasqua dicendo agli Apostoli questa è l'ultima Pasqua che si celebra questa è l'ultima volta che io ceno con voi che bevo con voi il vino è l'ultima volta perché poi lui sarebbe stato sacrificato sulla croce del Calvario quindi dice io mangerò con voi nella notte questa è la mia notte e spezzerò e mangerò il pane con voi poi quando il Signore risuscita risusciterà in un corpo glorioso e la gente avrebbe avuto comunione con Dio cosa vuol dire avere comunione con Dio avere Dio nel cuore non praticare il peccato fare la sua volontà questa è la comunione del Signore allora Dio comincia a manifestarsi nella vita di quell'uomo e di quella donna lo orienta lo guida lo protegge li benedice questa è la comunione con Dio la comunione con Dio deve essere costante tutti i giorni della vita e poi dice qui quindi che il Signore nel verso 24 dopo aver reso grazia lo spezzò e disse prendete mangiate questo mio corpo che è spezzato per voi fate questo in memoria di me parimenti dopo aver cenato prese anche il calice dicendo prima fecero la cena la Pasqua ricordiamoci che la cena della Pasqua significava mangiare un agnello perfetto con del pane senza lievito e poi si beveva alla fine con il calice divino dicendo questo calice è il nuovo patto del mio sangue fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice voi annunziate la morte del Signore finché egli venga quindi stavo dicendo agli apostoli Signore Gesù Cristo fate questo perché io me ne sto andando ma poi ritornerò in un corpo glorioso ma non era un obbligo farlo non fu un comandamento la cena ma un consiglio di farlo in memoria di Lui non era un obbligo un comandamento da fare tuttavia cos'è che succede che gli apostoli dopo che il Signore salì al cielo loro cominciarono a celebrare la cena e facevano dei grandi banchetti di cibo quindi la cena a lungo andare è diventata anche un'invenzione delle persone perché tanta gente che leggono anche la Bibbia si sono inventati appunto di celebrare la cena prendendo un pezzo di pane e un calice di vino celebrando la cena dicono che è la cena del Signore ma quella non è la cena del Signore la cena del Signore era un pasto completo era veramente un pasto completo fatto di un agnello fatto del pane del calice di vino non è solamente un pezzo di pane e un bicchiere di vino ma le persone hanno interpretato la cena del Signore in un modo errato e passiamo adesso al verso 17 e dice l'Apostolo Paolo or io in quello che vi ordino io non vi lodo perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni e in parte lo credo è necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati cioè quelli che saranno veramente i figli di Dio si riconosceranno 20 quando dunque vi riunite insieme dice l'Apostolo Paolo quello che fate non è mangiare la cena del Signore quindi cos'è che stavano facendo le chiese cristiane dopo la dipartita del Signore Gesù Cristo cominciarono a mangiare la cena del Signore ma non era veramente la cena del Signore perché quando si riunivano non mangiavano la cena del Signore e lo dice nel 21 perché nel mangiare ciascuno prende la propria cena anzitempo e uno ha fame e l'altro è ubriaco e cos'è che capite da questo verso durante quella cena uno mangiava prima uno mangiava troppo uno mangiava dopo uno diventava ubriaco quindi significa che la cena non significava mangiare un pezzo di pane scusatemi se parlo così direttamente un pezzo di pane e un bicchiere di vino perché le persone usano far questo in chiesa per ubriere la santa cena praticano questo ma è incorretto perché quella non è la santa cena non è come la vera cena del Signore perché? perché succedeva che uno mangiava troppo pane mangiava e diventava ingordo e io mi immagino che alcune persone mangiavano così tanto che arrivavano a vomitare mentre alcuni bevevano così tanto bevevano 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 fino a ubriacarsi e voi credete che quel tipo di cena poteva compiacere al Signore? Quella cena così fisica materiale piaceva al Signore? se in realtà Dio è uno Spirito non servono queste cose lui non ha bisogno del cibo non ha bisogno di essere celebrato in quel modo Dio ha bisogno solamente di un cuore un cuore sincero che non pratica il peccato perché se si pratica il peccato si offende Dio e si offende anche il prossimo e noi dobbiamo invece avere un cuore puro una coscienza pulita dai rancori dall'invidia dall'odio dall'usura dall'avidità dall'orgoglio dalla vendetta il nostro cuore deve essere libero da tutte queste cose a Dio non interessa se noi ci riuniamo a mangiare del cibo un pezzo di pane o bere del vino no il Signore guarda la nostra vita com'è la nostra vita in base al Signore e Dio disse se voi lo volete fare fatelo in memoria di me ma ci sono dei requisiti da avere verso 22 dice ora non avete delle case per mangiare e bere avete le vostre case per mangiare e per bere perché dovete andare in chiesa alla congregazione fare il banchetto e poi ubriacarvi e a mangiare come degli ingordi poi dice ancora il verso o disprezzate la chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla che vi dirò vi loderò in questo no io non vi lodo diceva l'Apostolo Paolo vi state comportando molto male e nel verso 27 dice sempre l'Apostolo Paolo cos'è che bisogna fare allora perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore quindi l'Apostolo Paolo dice voi vi congregate dite che andate a mangiare la cena del Signore alcuni mangiano troppo alcuni bevono troppo e allora cos'è che succede se una persona subriaca non sa quello che dice non sa più quello che fa e a Dio non piace questo e lo Spirito di Dio non sarà in quelle riunioni e non si manifesterà in quelle cene lo Spirito Santo ecco perché dice che chiunque mangia indegnamente il pane del Signore o beve il sangue del Signore sta sbagliando nei confronti di Dio e non serve a nulla celebrare la Santa Cena e sarete colpevoli del corpo e del sangue del Signore 28 ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice però prima dovete esaminarvi nei confronti di Dio siete perfetti nei confronti del Signore per fare la Santa Cena per celebrare la Santa Cena ma non come la tradizione dice non come le tradizioni si sono inventate e non neanche come lo facevano i primitivi io non sono d'accordo nel celebrare la cena del Signore né come lo facevano nell'antichità né come lo fanno oggi per me è meglio vivere una vita santa eretta nei confronti di Dio che è la cosa più importante perché la cena del Signore non fu un comandamento il Signore disse se volete farlo in memoria di me fatelo però dovete essere degni di farlo tuttavia se si celebra la cena del Signore bisogna celebrarla degnamente e farlo e farlo anche in un modo corretto ma perché si fa poi la cena poi magari quella sera tutte le persone vanno in chiesa corrono in chiesa per mangiare un pezzo di pane o per bere del vino ma non si sono esaminati come vanno nei confronti di Dio come camminano nei confronti del Signore infatti dice il verso 27 chi mangia del pane e beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore Gesù Cristo e saranno castigati dal Signore perché perché sono ipocriti stanno fingendo di andare alla Santa Cena ma poi dentro che cos'hanno non stanno andando bene nei confronti del Signore e noi non possiamo sapere chi va bene nei confronti del Signore e dire tu si mangia la Santa Cena tu no perché tu non vivi rettamente nei confronti di Dio tu si tu no tu si l'altro no così facendo si discriminano le persone e allora no non si deve fare così se diciamo tutti coloro che sono retti possono entrare a mangiare la Santa Cena chi non è retto no non può mangiare la Santa Cena e allora tutti entrano perché le persone diranno se io mi fermo fuori dalla Chiesa o me ne vado e non mangio la Santa Cena gli altri sanno che io non sto andando bene allora tutti entrano in Chiesa tutti mangiano tutti bevono ma il Signore non si compiace di queste riunioni dove ci sono duemila tremila credenti in una Chiesa celebrando la Santa Cena con un pezzo di pane perché si sono inventati questa tradizione con un calice di vino ma tutto questo diventa un problema un ostacolo e nessuno sta veramente compiacendo il Signore perché la metà di quelle persone stanno andando male nei confronti di Dio ma noi esseri umani non possiamo dire sì coloro che vanno bene entrino tutti gli altri fuori no non si può né per chi va bene né per chi va male pertanto siamo noi con la nostra coscienza nelle nostre case se ci sentiamo bene nei confronti del Signore se tutta la mia famiglia sono credenti nel Signore sono timorosi di Dio sono figli di Dio e vogliono celebrare la Santa Cena la facciano in casa ma attenzione alla coscienza alla coscienza di tutti perché noi non sappiamo com'è il cuore di mio marito o il cuore di mia moglie il cuore dei nostri figli perché magari il nostro marito viene in chiesa ma ha dei peccati occulti perciò molta attenzione a celebrare la Santa Cena io cos'è che direi piuttosto io lo farei da sola per esempio perché conosco la mia coscienza e Dio conosce la mia coscienza io come posso fingere io non posso fingere nei confronti di Dio né tantomeno nei confronti delle persone allora io la farei da sola perché insegno questo perché ci sono delle persone che sono arrivate in chiesa da altre denominazioni e mi dicono perché voi qui non fate la Santa Cena e però io rispondo così perché perché se si legge la Bibbia si capisce che se pecchiamo e celebriamo la Santa Cena perdiamo tante benedizioni perché il Signore ci punisce mentre il Signore vuole che noi siamo perfetti se voi invece pensate di essere perfetti celebrate la Santa Cena ma da soli davanti a Dio questo è l'insegnamento rileggo tempo trascorre però dice verso 28 anzi 27 così ci rimane registrato perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso non discernendo il corpo del Signore vuol dire che se uno pecca non sta mangiando e bevendo il corpo del Signore degnamente 30 per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono quindi tanti muoiono a causa dei loro peccati 31 perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati perché saremmo sinceri retti pratici e diremmo ma cosa vado a fare in Chiesa a prendere la Santa Cena se sono ancora nel peccato 32 ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo pertanto fratelli miei riunendovi per mangiare aspettatevi gli uni gli altri vuol dire quando vi riunite per mangiare aspettatevi gli uni gli altri così che uno non mangia troppo e l'altro non beva troppo aspettatevi aspettatevi gli uni gli altri 34 e se qualcuno ha fame mangi a casa affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio ecco l'Apostolo Paolo insegnava questo di non andare in chiesa affamati altrimenti avrebbero mangiato troppo perché quando voi siete realmente figli di Dio vi sentite bene nei confronti di Dio allora potete fare queste cose con saggezza saggiamente ma siccome noi sappiamo che la parte materiale come il cibo e le bevande non interessano al Signore perché il Signore non è materia il Signore è uno spirito allora Lui esige da parte nostra una vita retta e spirituale una vita nella quale io non provi odio nei confronti delle persone non faccia del male alle persone per esempio in un matrimonio quando il marito è infedele alla donna le sta facendo male al suo prossimo perché la sta facendo soffrire lei soffre piange racconta alla sua famiglia magari ai suoi genitori le sue amiche dice guarda io sto vivendo questa situazione e tutta la sua famiglia soffre insieme a lei questo è quello che significa fare del male al prossimo si fa del male al prossimo con un peccato qualsiasi peccato fa del male al prossimo per esempio rubare rubare è un peccato se si va in casa di qualcuno e si ruba un orologio molto bello molto prezioso un orologio guadagnato con tanto sforzo e rubano questo gioiello chi ha rubato il gioiello fa del male al prossimo fa del male al proprietario dell'orologio perché il proprietario dell'orologio ha comprato l'orologio con tanto sacrificio e adesso non ce l'ha più e non ha più del denaro per ricomprarselo e non può più godere del suo orologio sta subendo del male da parte di un'altra persona e quella persona sta peccando e sta offendendo il prossimo quindi come vedete qualsiasi peccato fa del male al prossimo il peccato dell'ira per esempio che comunemente si chiama malumore rabbia anche questo è un peccato che fa del male al prossimo perché offende il prossimo lo fa sentir male quindi vedete noi dobbiamo cercare di analizzarci dobbiamo cercare di non far del male al nostro prossimo dobbiamo compiere comandamenti e uno di questi è amare Dio e amare il tuo prossimo non offendere Dio e non offendere il tuo prossimo non peccare perché con questo peccato tu fai del male al tuo prossimo e anche a Dio per primo perciò vedete tutti i peccati fanno del male al prossimo ci sono peccati che sono contro lo stesso corpo della persona e chi fa tali cose come la fornicazione fa del male al proprio corpo tuttavia colui che compie la fornicazione fa del male anche alla persona con la quale è fornicato pecca contro il suo corpo ma fa del male anche agli altri quindi come potete vedere anche voi persone che mi state ascoltando per la prima volta dobbiamo essere realisti e sinceri e credere al Signore credere a Dio e desiderare con tutto il cuore di capire i cammini del Signore e seguire i Suoi passi affinché Lui ci dia la felicità la pace in questo mondo che ci dia il necessario e che poi un giorno possiamo ottenere la vita eterna quanto bello è leggere la Bibbia leggete la Bibbia leggete la Bibbia pregate chiedete al Signore di essere aiutati che vi guidi che vi riveli che vi orienti e noi ringraziamo il Signore oggi per averci permesso di parlare di queste cose in un modo duro sì però dobbiamo farlo dobbiamo capire che l'onore e la gloria siano per Dio adesso preghiamo Benedetto Dio Padre Celeste ti ringraziamo Signore grazie per questo privilegio che abbiamo avuto davanti a Te Signore ci hai dato il privilegio di conoscerti di conoscere il Tuo cammino grazie Signore perché noi siamo persone tra milioni e milioni di persone nel mondo e Tu ci hai chiamate Signore Tu ci hai dato aiuto ci hai guardati hai posto il Tuo sguardo su di noi ci hai fatto una chiamata ci hai scelti e noi cos'è che abbiamo fatto per ottenere questo premio meraviglioso niente Signore non abbiamo fatto niente perché eravamo persone ignoranti vivevamo nella completa ignoranza perché non conoscevamo i Tuoi cammini ci avevano insegnato delle religioni ma mai mai avevamo sperimentato la Tua presenza né la Tua misericordia né il Tuo amore non avevamo mai sperimentato le Tue meraviglie le Tue manifestazioni mentre adesso sì sperimentiamo le Tue manifestazioni da più di 50 anni a questa parte sperimentiamo che esisti che è un Dio reale potente sì ci sono tanti misteri scritti nella Bibbia che non capiamo ma un giorno comprenderemo tuttavia noi continuiamo questo cammino con allegria e con felicità grazie Signore per averci guardati con un occhio di misericordia grazie perché siamo davanti alla Tua presenza guarda quante persone in questo momento sono davanti a Te ci sono migliaia di persone che in questo momento sono connesse e che sono davanti a Te loro ti stimano e vogliono seguirti loro sono state chiamate da Te e queste persone hanno fiducia in Te sperano in Te guarda che in questo momento tanti ti stanno pregando ti stanno chiedendo misericordia guarigioni per i loro familiari per i loro fratelli sorelle figli marito moglie parenti che sono malati tanti sono malati e sono in ospedale sono in coma tanti sono malati tanti sono anche morti e i loro familiari adesso sono addolorati dai loro forza poi ci sono i malati del coronavirus stendi la Tua mano guariscili dai loro un'altra opportunità di vita Signore dai loro l'opportunità di continuare a vivere cosicché possano esaminare la loro coscienza reagire ed essere al passo con Te ogni giorno dai a loro un'altra opportunità ascolta la loro preghiera la preghiera dei bisognosi degli afflitti delle persone tristi grazie Padre Celeste per ascoltarci grazie Eterno Dio Creatore dei Cieli della Terra il nostro Creatore il nostro Padre Benedetto l'ho dato il Tuo nome nei secoli dei secoli ti lodiamo Signore ti diamo l'onore e la gloria nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo Figlio amato grazie alleluia che il Signore vi benedica tutti grandemente miei cari fratelli e sorelle vi chiedo scusa per il ritardo continuate adesso nelle vostre chiese continuate magari con le testimonianze raccontando tutte le meraviglie che Dio fa nella vostra vita grazie e voi che siete oggi qui per la prima volta in chiesa andate andate e continuate in chiesa a ricevere la profezia e la consolazione del Signore e la felicità da parte di Dio grazie un abbraccio a tutti voi e baci per i bambini grazie e Dio vi benedica